Ogni epoca naturalmente tende a identificarsi con le cause che sono più assimili a ciò che si sta vivendo nel presente. Voglio dire che al tempo della prima guerra mondiale e poi del nazismo molti storici dicevano, beh certo sono i barbari germani che hanno distrutto l'impero romano, è chiaro, oggi escono libri che dicono, no no ragazzi è il cambiamento climatico, è la catastrofe naturale, ogni epoca riconosce le cose. A me verrebbe da pensare l'immigrazione gestita male nell'impero romano è stata sicuramente una causa di dissesto spaventoso, mentre prima era stata per secoli l'immigrazione nell'impero romano una grande forza, un serbatoio di risorse, di forza lavoro e così via e a un certo punto ha cominciato a essere gestita male sia la partita dell'integrazione, del lavoro, della cittadinanza. Perché ce ne parli? Eh ma è successo questo semplicemente, che il modello romano era un modello naturalmente brutale, cioè noi abbiamo bisogno di gente. Quindi se arriva qualcuno e chiede di entrare e continuamente arrivano, perché anche lì come oggi è un mondo ricco, organizzato, con delle risorse e quelli fuori stanno peggio. Quelli fuori stanno peggio, gli arriva la carestia oppure gli unni, si mettono in marcia e vogliono entrare, fin qua esattamente come oggi, salvo che vogliono entrare in un mondo poco popolato dove c'è spazio. E quindi il governo imperiale dice va bene, sono arrivati in Gallia. In Gallia c'è bisogno di gente, cosa dicono i latifondisti, hanno bisogno di contadini, sì. Cosa dicono i militari, servono reclute in quella zona, sì sì servono. Benissimo, li facciamo entrare. Ci ha provato la Germania con la Merkel un paio di anni fa. La logica era quella, ma farli entrare quando ne hai bisogno, in modo anche un po' selettivo, e l'impero romano lo ha fatto, ripeto, per secoli con grande successo, anche con grande cinismo. Se in questo momento non ci servono, non li facciamo entrare. E se ci provano lo stesso, li ammazziamo tutti. Nell'impero romano non si facevano scrupoli. E non c'era un'opinione pubblica di cui l'imperatore dovesse preoccuparsi. L'imperatore poteva dire sì, abbiamo 50.000 sarmati da sistemare, li mettiamo a Modena. E non risulta che i modenesi protestassero. Era anche facile gestire le cose in quel modo. Di fatto c'erano regole molto precise, cioè voi che entrate accettate di obbedire, noi vi diciamo cosa farete, noi vi sistemiamo, vi diamo lavoro, i giovanotti in caserma, gli altri a lavorare, a spaccarsi la schiena. Però garantiamo a tutti casa e lavoro e dopo un po' la cittadinanza. E vi fonderete con noi e avete il privilegio di pagare le tasse insieme a noi. Quindi non ne facevano schiavi? Cioè qual era il rapporto? Eh no, questo è il punto. La schiavitù è il modello più vecchio. È il modello di Giulio Cesare, della Repubblica. Ma sotto l'impero, a un certo punto, il modello diventa non schiavi, perché gli schiavi non pagano le tasse e non fanno il servizio militare. Molto meglio avere delle masse di proletari che diventano cittadini e che si integrano. Quindi quel modello lì sostituisce in gran parte la riduzione in schiavitù. Poi cosa succede? Succede anche qui, si può vedere da destra o da sinistra. Visto da destra ne fanno entrare troppi. Ne fanno entrare così tanti che a un certo punto i meccanismi saltano, non riescono più a controllarli, non sono più abbastanza rigidi, questi cominciano a pretendere, non vogliono più assimilarsi, vogliono continuare a vivere secondo le loro regole, le loro tradizioni, obbedire ai loro capi, però stando dentro l'impero. Visto da sinistra, corruzione, corruzione governativa, la concessione di cittadinanza non è più garantita, le condizioni di lavoro non sono più sufficienti, questa gente viene sfruttata in modo sempre più bestiale e alla fine si ribella. Sono vere abbastanza entrambe le cose, tutto sommato. Sta di fatto che a un certo punto cominciano nell'impero romano a entrare masse di semi clandestini, i quali entrano senza avere proprio ben chiesto il permesso e negoziano degli accordi per cui vengono lasciati stare perché il governo non è abbastanza forte per ributtarli fuori e da lì comincia effettivamente la dissoluzione politica dell'impero romano. Non è forte per causa dei contrasti interni o perché gli mancano le risorse, i mezzi per contrastare? Tanti motivi, lì è difficile dirlo, contrasti interni sicuramente, mancano i soldi, sono meccanismi perversi. Quando tu cominci a dire per risparmiare il servizio militare lo facciamo fare a questi immigrati che costano meno e dopo un po' scopri che non è più un esercito hai soltanto i goti in armi i quali a questo punto dicono però adesso ci pagate di più. E quindi? E quindi appunto il risultato è che, di nuovo, non voglio dirlo in modo sgradevolmente di destra, ma da un certo punto di vista questi che fino a un certo momento erano stati immigrati desiderosi di integrarsi e che avevano concrete garanzie di integrazione e cittadinanza, diventano masse irrequiete e armate che in cambio del loro servizio militare pretendono di essere mantenute e pagate e di starsene dentro l'impero senza però diventare romani, senza assimilarsi. Si nascono così i regni romano barbarici, i Longobardi, i Goti, i Franchi e a quel punto il governo imperiale da intere regioni dove ormai comandano loro il governo si ritira e comandano loro.